Passato il peggio, occorre rimettere in pista Piaggio Aerospace, ma i ministeri competenti devono fornirci un piano strategico per l'intero comparto della difesa. È quanto evidenzia l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, dopo un incontro di ieri con il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro e le rappresentanze sindacali. L'assessore ha anche evidenziato che i sindacati hanno confermato che nel breve termine sono state avviate attività e commesse che dovrebbero pian piano recuperare lavoro e produttività, facendo rientrare parte dei lavoratori dalla cassa integrazione. Benveduti ha detto di aver apprezzato nei colloqui con il management il grande lavoro svolto dal commissario, che è riuscito a stabilizzare un paziente che appariva inizialmente gravemente malato e ha sottolineato l'urgenza di arrivare in tempi brevi al banto di gara per l'accessione, analizzando con grande cautela i possibili pretendenti per evitare che questa eccellenza italiana diventi l'ennesima dismissione e perdita di competenza della nostra nazione. Il nostro auspicio, dice Andrea Benveduti, è che questa realtà di tecnologia rimanga in un perimetro che rispetti l'interesse nazionale, i lavoratori e le parti sindacali, che in questi mesi di difficoltà hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, interpretando in maniera sempre molto costruttiva e responsabile il loro ruolo.